e buonasera amici di Radio Praxis e tifosi della Real Sebastiani e benvenuti a questo primo tempo della partita di di gara tre tra Real Sebastiani Rieti e e Lio Filkem Roseto partita che è iniziata da sette minuti già e problemi eh in gestione da parte della LNP eh partita che però vede la Sebastiani in eh comando delle operazioni sette undici dopo sette minuti e diciotto di gioco nel primo quarto eh sicuramente adesso recuperiamo anche il netcasting e tutto il resto per darvi eh le le migliori notizie su questa partita ehm sette undici dicevamo con Enzo Sena che è in lunetta per due tiri liberi e cinque punti per Loschi tre per Niccolò Basile tre per Claudio Ondoia e adesso due eh anzi eh uno per Enzo Sena che va a segno con il primo tiro libero più cinque per eh Rieti e e sbagliato il secondo eh adesso è eh eh Roseto a controllare con Diemidio va da Lucarelli poi prova Lucarelli ad andare da Moroso sotto canestro Rieti chiude benissimo Loschi recupera il pallone va da Pansini a gestire adesso di nuovo da Loschi che poi ha un minimo di spazio pensa al passaggio per Vicentin che viene stoppato palla sul fondo bella la stoppata in questo caso di di Lucarelli e c'è il time out da parte eh della panchina di Rieti approfittiamo per mettere a punto tutto quanto eh per questo minuto piccola pausa anche per noi e stanno per tornare in campo le due squadre eh Rieti che vede entrare per per la prima volta nella partita Vincenzino ehm Vincenzino Provenzani che entra in campo scusate ho avuto un piccolo problema di internet Claudio Ndoglia da tre punti il capitano va a vendicarsi in un solo colpo di tutte le angherie subite in ehm gara uno e gara due canestro del più otto per Rieti sette Roseto quindici Rieti uno cinquantatré da giocare Ruggero gestisce il pallone bella la difesa di Sena ancor più bello il canestro di Antonio Ruggero mattatore di gara due eh per eh Roseto e e autore di altri due bei punti ehm in questa azione adesso Provenzani che prova ad andare da Claudio Ndoglia che sfida Serafini direttamente in palleggio poi Provenzani fino in fondo trova il taglio back door eh Claudio Ndoglia su Vincenzilo Provenzani che finalmente si rende utile alla causa due punti in appoggio per Provenzani preziosissimi nove Roseto diciassette Rieti amoroso Enzo Sena su di lui difende Sena spinge amoroso si va fuori per Diemitio difeso da Panzini tiro da tre di Diemitio sballato il rimbalzo di Roschi più otto Rieti palla in mano cinquantacinque secondi da giocare e e palla gestita da Lorenzo Panzini attenzione perché eh Federico Loschi accorre in punta ricevere il pallone blocco di Sena la tripla di Loschi che non ha non arriva nemmeno a scheggiare il ferro poi tenta di rubare il pallone Federico Loschi non può nulla non riesce ad intercettare la sfera e va segno Valerio Amoroso con due punti che valgono il meno sei per Roseto Panzini adesso Provenzani per Federico Loschi in punta per Enzo Sena gira il campo Provenzani poi vede il passaggio laser per Federico Loschi che gioca sotto canestro in post vada appoggiare dopo un gran movimento sul piede perno e sono altri due punti per Federico Loschi che riporta più otto i suoi amoroso poi vada appoggiare sullo scadere del primo quarto e va a sbagliare e quindi si conclude qui la terza frazione con Rieti in vantaggio undici diciannove inaspettata parte grande partenza eh della Sebastiani inaspettata forse per la panchina di Trullo che magari eh aveva anche preventivato questa reazione eh di Rieti eh noi che abbiamo seguito questa squadra durante tutta la stagione sappiamo benissimo che può avere questi scatti eh di orgoglio e quindi time out per questa fine del primo quarto un piccolo minuto di pausa anche per noi pausa anche per noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e siamo pronti a tornare in cronaca eh con il racconto del secondo quarto tra Lio Filkem, Roseto e Real Sebastiani Rieti serie inaspettatamente sullo 0-2 dopo le due gare al Palazzo Giurna dove Rieti è stata beffata in entrambi i finali in gara due addirittura dopo un supplementare due sconfitte che hanno fatto sicuramente male alla squadra del Neocoach Prosperi ma che allo stesso tempo non possono bastare per dire che Rieti è morta qui bisogna arrivare a tre punti per Roseto Rieti sta rispondendo bene in questo primo quarto, bisogna costruire mattoncino dopo mattoncino qua arriva il fallo di Valerio Amoroso mentre il gioco è ripreso su Enzo Sena, il suo primo passo sarà importantissimo avere minuti di qualità da parte dell'argentino che sul finale di gara due si è preso la responsabilità del ruolo di cinque, tutto sulle sue spalle e ha portato a termine una bellissima prestazione ora Provenzani sicuramente più presente in questa partita rispetto alle prime due gare va a servire Loschi che va fino in fondo poi vuole scaricare per Panzini lungo il lob di Loschi e palla persa per Rieti non deve fare assolutamente questo la Sebastiani anche se la vediamo molto più intraprendente per quanto riguarda le penetrazioni rispetto al solito Federico Loschi già quattro conclusioni sette punti per lui quattro conclusioni dicevo da dentro l'area riprende il gioco con Lucarelli che va da Ruggero Ruggero serve amoroso contro Enzo Sena spinge forse una volta di troppo amoroso di mestiere va a conquistare due punti importantissimi per gli abruzzesi che smuovono il loro punteggio 13-19 9-14 da giocare nel secondo quarto Panzini prova a creare lo spazio per lo step back la tripla l'errore dall'ala destra e quindi Pastore che prova a portare la transizione va da Lucarelli sempre in ala destra ma nel campo di Roseto questa volta Drigo contro Nikolic Nikolic va fino in fondo a fare a sportellate con Mattias Drigo e va a subire il fallo saranno due tiri liberi per Alexa Nikolic importantissimo nelle prime due gare adesso fermo ad un punto può smuovere il suo tabellino e quello di Roseto con questa tornata di tiri liberi pubblico sugli spalti del Palamaggetti che si fa sicuramente vedere gli effetti dei nuovi decreti si stanno facendo sentire sullo sport italiano con i tifosi che sono tornati nei palazzetti anche con un discreto tifo e una discreta voglia di starci quindi tanto di guadagnato per il movimento del basket italiano Nikolic fa un bel due su due ai liberi riporta Roseto a meno quattro e in un momento si è contratto il vantaggio di Rieti qua in frazione di campo di Pansini bella la difesa di Ruggero e forse però insomma qualche dubbio sulla decisione arbitrale sicuramente c'è almeno da parte di Pansini che stizzito lancia la palla all'arbitro e torna in panchina per il time out di Coach Prosperi Roseto è rientrata a meno quattro e otto punti di vantaggio contro questa squadra sono poca cosa bisogna che Rieti tenga alta la concentrazione per ora quattro punti di vantaggio e palla in mano però agli abruzzesi che hanno un quattro a zero di parziale aperto e possono puntare ad allungare ulteriormente questo strabo che li sta riportando sotto per Rieti dicevamo i sette di Loschi e zero di Paolo Paci in sei minuti e mezzo partito più a rilento Paolo Paci in questa partita ha sicuramente risparmiato da Cocce Prosperi per evitargli il quinto fallo prima del tempo vediamo infatti Marco Di Pizzo adesso in campo insieme a Provenzani Claudio Ondoglia Mattias Drigo e Lorenzo Panzini questo il quintetto di Rieti che rientra contro Nicolic Lucarelli Ruggero Pastore Damoroso per Roseto quintetto tra i migliori schierabili da Cocce Trullo vediamo come va questa azione quando sono trascorsi un minuto e sedici sul cronometro del secondo quarto riprende il gioco amoroso in punta marcato da Di Pizzo Lucarelli Drigo su di lui Lucarelli non riesce a batterlo in primo passo va fino in fondo Lucarelli usa il fisico contro Drigo si crea lo spazio va a segnare un bellissimo canestro quello del meno due per Roseto Panzini adesso Claudio Ondoglia per Di Pizzo in punta Panzini di nuovo esce dai blocchi Provenzani quasi perde il pallone contro Ruggero il blocco di Di Pizzo prova ad andare fino in fondo Provenzani lo scarico per Claudio Ondoglia la tripla del gladiatore l'assist di Vincenzino Provenzani che sicuramente in questa partita sta mettendo tutta l'anima bravo Vincenzo Pastore pensa al tiro dopo essersi liberato di Panzini poi deve andare da Ruggero che vede Nikolic come gioca Roseto con i tagli backdoor è la prima squadra di quest'anno che vediamo giocare così bene questo tipo di schema Nikolic è un incursore sulle linee di altissimo livello Panzini per Claudio Ondoglia di nuovo Panzini Ricciolo per il gladiatore che scivola va da Drico però in angolo la tripla sbagliata da parte di Mattias Drico la palla sporcata non si sa se da un giocatore di Rieti o da uno di Roseto gli arbitri discutono anche essi uno è di un parere uno è di quello opposto sembra che però abbia prevalso in questo caso l'arbitro più lontano dal pallone che però aveva la visuale migliore evidentemente palla Rieti sul più tre con Drico che continua a sbagliare tiri battezzato praticamente non può continuare a sbagliarli per tutta la partita Provenzani bella l'uscita dai blocchi il tiro dai quattro metri e mezzo che è sbagliato di poco qui bellissima l'azione di Nikolic che crea la distanza con Claudio Ndoglia lo spinge quel tanto che basta per allontanarlo ricevere il pallone da andare ad inchiodare la bimane del meno uno bimane del meno uno che quindi porta Roseto a ventuno Rieti ferma ancora a ventidue sette zero due da giocare nel secondo quarto rientra Federico Loschi esce Mattias Drigo impalpabile ancora in questa partita Rieti aveva otto punti di vantaggio ora ne ha solo uno prende il pallone sulla rimessa Basile che va fino in fondo ad appoggiare due punti Niccolò Basile grande canestro del numero zero di Rieti poi Provenzani su Di Rui Ruggero Provenzani su Ruggero dicevamo scusate prova a contenerlo in tutti i modi poi va d'amoroso la tripla l'errore il rimbalzo intelligente di Rieti in questo caso Claudio Ndoglia pensa subito al tiro in transizione l'errore qui poteva pensarci meglio Ndoglia poi Nikolic corre tutto il campo e qui abbiamo visto qui abbiamo visto la differenza tra Alexa Nikolic e Claudio Ndoglia per quanto riguarda l'atletismo Ndoglia che non riesce a contenere in contropiede Alexa Nikolic va a schiacciare un'altra volta l'italo-serbo e questa è stata una delle chiavi della serie tra Rosetta e Rieti assolutamente questo mismatch assoluto sul piano fisico tra Claudio Ndoglia e Alexa Nikolic sono già due i canestri dell'ex NPC Rieti fatti in questo modo con Ndoglia che non riesce a tenere il primo passo del giovanissimo numero 46 di Roseto Basile adesso su di lui Pastore poi qui sbaglia completamente la lettura dello schema Basile non ha visto che Di Pizzo non aveva rullato completamente nello schema è andato a servire in mezzo palla persa recuperata da Roseto Pastore pensa al tiro vada Amoroso in ala pensa al tiro anche lui torna da Pastore 10 metri dal canestro 7 secondi per tirare Amoroso la tripla che porta in vantaggio Roseto 26 24 5 35 da giocare nella seconda frazione Rieti sta faticando tantissimo adesso fortuna il tesoretto di 8 punti del primo quarto lo ski da 3 punti l'errore il rimbalzo di Amoroso poi Pastore quasi perde il pallone contro Claudio Ndoglia lo recupera ora chiama lo schema Pastore vada Amoroso aspetta l'endoff per Ruggero poi il blocco proprio di Amoroso di Pizzo rimane su Ruggero Pastore e qui Nicolic l'alley hoop accoppiato con Provenzani va ad appoggiare un canestro quanto mai facile problemi enormi per Rieti sugli switch difensivi li ha mostrati per tutto l'anno e qui stanno pesando tantissimo Doglia prova ad andare fino in fondo poi a scaricare per Provenzani palla persa da Claudio Ndoglia Ruggero prova ad andare fino in fondo il fallo di Provenzani qui si è spenta totalmente la luce in casa Sebastiani che non riesce ad andare a segno ormai da tre minuti 28 24 si era sull'11-19 alla fine della prima frazione quindi parziale di 17-5 finora per Roseto in 5 minuti e 20 altro parziale che potrebbe costare caro psicologicamente a questa squadra è solo più 4 in questo caso finora Panzini prova non vede assolutamente il lob in arrivo su Ruggero poi prova Paloschi a recuperare il pallone si butta a terra per recuperarlo non ci riesce per un soffio Rieti che quindi torna a difendere sulla rimessa di Roseto con 20 secondi da giocare nell'azione e la rimessa sarà Di Pastore designato ricevitore probabilmente Ruggero alla fine invece è Lucarelli dall'ala contro Claudio Ondoglia Ondoglia che prova a difendere come può stanchissimo il gladiatore ha arrivato a questa puntata stagione Panzini contro Ruggero il tiro corto di Ruggero il rimbalzo di Claudio Ondoglia prova a spingere Rieti adesso con Basile fino in fondo non valido il canestro di Niccolò Basile che però deve far questo deve cercare di aggredire il ferro quarto fallo di squadra per Roseto c'è Di Buono che arriva il bonus per Rieti in questo secondo quarto 4 minuti e 19 dove ogni fallo porterà Iamaranto Celesti in lunetta riceve il pallone Claudio Ondoglia vada Federico Loschi Paci prova a prendere il posto sotto canestro contro Amoroso va in post contro Valerio Amoroso Paci il gancio sinistro corto nelle mani di Amoroso per il rimbalzo poi Ruggero marcato da Basile deve andare da Amoroso poi Sebastianelli riceve il pallone appena rientrato Sebastianelli pastore il tiro dai 6 metri a segno più 6 Roseto più 6 Roseto 30 24 per Rieti 33 e 38 da giocare nel secondo quarto e Rieti non trova più assolutamente la via del canestro Loschi il blocco di Paci poi accenno di pick and roll con la tripla di Loschi e il fallo sul tiro di Federico Loschi da parte in questo caso di Sebastianelli ingenuità commessa dal numero 17 Rosetano che regala tre tiri liberi a Federico Loschi che sono manna dal cielo per il secondo quarto della Sebastianelli che è al limite del disastroso squadra che aveva mille certezze fino a un mese fa e che insomma adesso le sta vedendo crollare tutte aveva anche già molti dubbi sicuramente sulla tenuta di certi elementi si vociferava insomma da mesi che servisse un cambio di rotta però non ci si aspettava comunque di trovarsi due a zero e sotto di sei in gara tre contro Roseto Loschi qui un po' di fortuna per Rieti ci si mette palla in and out di nuovo in quindi primo libero assegno per Federico Loschi meno cinque per Rieti Loschi poi paga il prezzo alla sfortuna con il secondo tiro libero che gira intorno al ferro e esce questa volta uno su due finora e vediamo il secondo tiro libero il terzo tiro libero se va a segno per Federico Loschi anche questo è sbagliato uno su tre per Federico Loschi ai tiri liberi qualcosa che si vede di rato alla fine Sebastianelli ha anche compiuto una mossa azzeccata se il risultato è stato un solo punto e vediamo adesso Pastore che pensa al tiro poi prova ad andare da Diemitio amoroso a cui non si riesce a trovare una misura arriva Paci che prova a metterci lui una pezza la transizione adesso di Rieti con Basile che pensa alla partenza con blocco di Ndoglia Ndoglia che poi rolla all'interno torna fuori per ricevere il pallone lo scarico per Panzini il primo passo poi Claudio Ndoglia qua fa saltare l'avversario che tripla presa da Claudio Ndoglia non va a segno bellissima però il movimento dell'italo-albanese sfortunata Rieti ancora in questo caso percentuali sporche e bravissima Roseto in questa serie a tenere Rieti sempre col guinzaglio ben stretto Nikolic per Pastore pensa al tiro Pastore questa volta ha difeso benissimo da Rieti il tiro è sballato Panzini va da Loschi l'eurostep di Loschi e poi però arriva il fallo in attacco di Federico Loschi qui non si riesce bene a capire diciamo la scelta arbitrale sembrava molto più fallo del difensore di Roseto sull'eurostep di Federico Loschi che era andato tra l'altro a segno time out da parte di Prosperi che ha bisogno di parlare con i suoi ha bisogno di infondere coraggio ai ragazzi della Real Sebastiani che ha subito un bruttissimo parziale in questo secondo quarto 19-6 finora ma sta cercando di tenere botta solo meno 5 frutto del più 8 alla fine del primo quarto un minuto di pausa in campo un minuto di pausa anche per noi un minuto di pausa e siamo tornati in campo per gli ultimi due minuti e zero nove di questo secondo quarto Roseto ad avere palla in mano con Sebastianelli poi amoroso dalla media torna fuori da Sebastianelli di Emilio Pastore tutto sul perimetro bello lo spazio che si crea Pastore grande canestro grande canestro ancora una volta di Andrea Pastore più 7 per Roseto 32-25 e adesso palla per Paolo Paci in punta poi Mattias Drigo cerca di ricevere il pallone Roschi in post poi si va Dandoglia Dandoglia per Pansini gioco a 2 che abbiamo visto tantissime volte gli sporca il pallone di Emilio gli sporca il pallone anche amoroso in entrata Claudio Dandoglia riesce a trovare il fallo che varrà due tiri liberi che di nuovo sono ossigeno per Rieti che non riesce in nessun modo a trovare la via del canestro sicuramente anche la forza del Palamaggetti si sta facendo sentire per quanto riguarda la spinta emotiva dei giocatori Claudio Dandoglia sbaglia un altro tiro libero è davvero insolito vedere Federico Loschi e Claudio Dandoglia sbagliare così tanti così tante possibilità dalla linea della carità e sbaglia anche il secondo poi palla che si allunga tra pace e un avversario l'ultimo a toccare è proprio il numero quindici di Rieti zero su due di Claudio Dandoglia e questo uno su cinque da parte di Loschi Dandoglia sicuramente fa il paio con con l'uno su dodici di Paolo Paci finora nella serie tiri liberi che sono velenosi per Rieti e poi adesso la grande azione di Roseto tra tra Amoroso e Ruggero due vecchietti veramente brillanti in questa squadra alla fine sul tiro di Amoroso sbagliato arriva anche il fallo di Federico Loschi quindi sarà rimessa di nuovo per Roseto con quattordici secondi da giocare Di Emidio pronto a battere questa rimessa dal fondo per Amoroso poi palla che va da Pastore la tripla di Pastore assegno Pastore assegno con la tripla Andrea Pastore che secondo quarto da incubo per Rieti 24-6 il parziale assurdo come Rieti non si è riuscito a trovare mai la via del canestro arriva qui un fallo su Federico Loschi la beffa è che Paolo Paci a cronometro fermo tenta la tripla e la manda assegno incredibile anche anche la beffa ci si mette e qui Federico Loschi ha l'opportunità di riportare Rieti a meno 8 ma era più 8 alla fine del primo quarto questo vi fa capire che tipo di parziale ha potuto subire la Sebastiani in questa seconda frazione sicuramente tirati tirati molto i remi in barca in questa frazione Loschi questa volta è preciso uno su uno vediamo se riesce ad andare a segno con il il secondo a segno Federico Loschi a segno 35 Roseto 27 Rieti bisogna provare a concludere al meglio questo primo tempo di Emilio trova Sebastianelli libero sull'angolo va fino in fondo poi scarica per Nikolic difeso da Loschi di Emilio spinge fino in fondo scarica per Sebastianelli la tripla la tripla di Sebastianelli a segno per Roseto 38 27 38 27 più 11 per gli abruzzesi e discrepanza tra cronometro e 24 secondi minima qui al Palamaggetti quindi Rieti che potrà giocare quest'ultima azione Basile marcato benissimo da Pastore non si trova alla quadra alla fine arriva la tripla di Basile sbagliata finisce qui finisce qui il primo tempo di Roseto Rieti più 11 per la Leo Filkem che diciamo la verità ha veramente distrutto in questo secondo quarto Rieti Rieti che è 5 su 15 da 3 punti tantissimi tentativi da 3 per la Sebastiani 13 tentativi da 2 mentre 13 sono i canestri da 2 per Roseto questo vi fa capire la dimensione del gioco interno per la Leo Filkem che si sta dimostrando più adatta di Rieti per avanzare a queste finali di playoff vediamo se la Sebastiani avrà la reazione d'orgoglio nel secondo tempo e riuscirà a riprendere per i capelli una serie che sembra disperatamente ormai persa noi ci fermiamo per questo primo tempo interrompiamo qui la diretta saremo in diretta di nuovo con un altro link per il secondo tempo tra circa un quarto d'ora quindi a risentirci tra un quarto d'ora è forza Sebastiani a risentirci a risentirci